Musica Questa sera inizia un nuovo programma serale Vengo anch'io? No, tu no Tutti quanti restate incollati alla televisione Vengo anch'io Con Cemino, Cassano e Laila non cambiate il canale Vengo anch'io Per vedere il concorrente se ce la farà Vengo anch'io No, tu no Vengo anch'io No, tu no Vengo anch'io No, tu no Ma perché? Se non sei un cantante, no Vengo anch'io Vengo anch'io Vengo anch'io Mi pregunto e non termino E' questa vita dove va? Dime tu, te pido E' dime tu, dove va? Tanta piedra nel cammino Tantos sueños che se van Dime tu, te pido E' dime tu, che sarà Si la vita è così Se vive al andar Depende di siete arriva Te quita e te da E' questa vita Que viene e va Por cada terra Y una salida Siempre hay una oportunidad Una cura En cada herida Que sanara Vale el intento Vale el camino Sigue tu y ya lo veras E' o� 위해 E' o�aci E' o�ace Esta vita è un precie E lo tienes que pagar Vale ma, intentes, vale ma, già veras Si trabajas sin desvelo, ganas la felicità Y al final respiras libertà, già veras Si la vita è così, se vive al andar Depende del 27, arriva, te guida e te da C'è vale questa vita che viene e va Con cada terra e una salita, sempre hai una opportunità E la cura e il calerina A voi i donaci! Bene, 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 benvenuti, venite qua, venite qua Perché il bello è stare in mezzo alle donne E sono tantissime, sono anche bravi Ma siamo sempre, come tutte le settimane Siamo a Vengo Anch'io, che va in onda tutti i giovedì Alle 21.30 su Ray TV E io voglio dire, sono particolarmente emozionato Con queste simpatiche ragazze del corpo di ballo Dello Star Life School di Aidone Perché siamo, stranamente, noi abitualmente registriamo da Catania Invece oggi siamo in tour, cioè siamo in giro In una cittadina della Sicilia, una simpatica cittadina della Sicilia Che si chiama Aidone e che gentilmente ci ospita Per cui grazie ai donne, grazie a voi ennesi Ennesi, perché è provincia di Enna Bene, e quindi io vi ringrazio il corpo di balla ancora E ci vediamo dopo Grazie a voi, grazie a dopo Grazie, accomodatevi, grazie Grazie E io volevo dire, ebbene, voi sapete che il nostro programma Vengo Anch'io ha una sua filosofia Che è quella di ospitare tutte le settimane Persone, ballerine, ballerine, cantanti, emergenti Tutti coloro che hanno voglia di esibirsi E che hanno del talento Noi li sentiamo Loro ci chiamano, al numero che vedete che passa in sovrimpressione Ci chiamano, noi li sentiamo, li proviniamo Se sono bravi, se funzionano Li invitiamo sempre a venire in trasmissione E vengo Anch'io E anche da Aidone Questo è il progetto Anche da Aidone Praticamente abbiamo stasera Cinque concorrenti che si esibiranno Che noi abbiamo sentito Che sono bravi, devo dire, tutti bravi E che man mano ve li presenteremo Abbiamo al solito, come sempre Come di consueto, una giuria Che vedrete più tardi Che vi presenterò più tardi Una giuria tecnica Composta da professionisti della canzone Da musicisti Da cantanti Cantautori Che giudicheranno questi emergenti Questi concorrenti E daranno una votazione Per cui a fine puntata Ci sarà come sempre Un primo vincitore Il vincitore della quinta puntata Che poi andrà Andrà a scontrarsi Con gli altri vincitori Delle altre puntate E attenzione Perché una cosa importante È quella che Tutti i concorrenti Che verranno Che non vinceranno La quinta puntata Però che si sono esibiti Non è che perché non hanno vinto Sono fuori dal programma No Perché noi abbiamo Un meccanismo simpatico È quello del ripescaggio Cioè voi da casa Mandate un messaggino Al numero che passa In questo momento O un sms O una telefonata Comunque da red Potete dare un voto A quei cantanti Che secondo voi Magari sono stati esclusi Stasera Ma che voi potete ripescarli Da casa Poi pubblico E con un simpatico messaggino Con un simpatico sms Potete farlo ripescare Quindi noi possiamo Far rinvitarlo In trasmissione Perché secondo il pubblico Secondo il pubblico Era bravo Quindi andava votato E per cui grazie al vostro voto Lo rivediamo in trasmissione Per cui non è detto Che chi non vince La puntata di stasera Non possa ritornare In trasmissione Non possa essere lui Domani il vincitore Il primo classificato Del nostro programma Vengo anch'io Ma io vorrei che la regia Se mi segue un attimo Perché il nostro titolo È importante Vengo anch'io Sì, vengo anch'io sul palco E vengo anch'io ad esibirmi Vengo anch'io tutti i giovedì 21.30 Su Rai TV O il venerdì Alle 20.30 O in replica Notturna Lunedì All'1.30 Di notte E mercoledì All'1.30 Di notte Bene, allora Come di consueto Entriamo proprio nel vivo Nel cuore Di vengo anch'io Ed entrando nel cuore Incontriamo La prima concorrente La prima che si chiama È una ragazza È un emergente Mi dicono che è brava E io credo Alla mia produzione E si chiama Desiree di Gregorio Desiree di Gregorio Desiree di Gregorio Desiree di Gregorio Buonasera Desiree Buonasera Guarda lì in telecamera Ma io voglio dire Desiree so che stasera Picanti Tu sei di Caltagirone Sì Sì quindi Tutti i calatini stasera Saranno lì davanti al televisore A sentire la loro conterranea La loro compaesana Che si esibisce Sì È un vanto È un orgoglio Per le cittadine Per i paesi Avere una loro compaesana Che sta lì In televisione E si esibisce So che stasera Tu canti Io non credo Nei miracoli Giusto? Sì Di Laura Bono E io ti lascio Allora a te il microfono Desiree di Gregorio Io non credo Nei miracoli Desiree di Gregorio Desiree Non credo Nei miracoli Tu sei stato Per me Le eccezioni E anche solo Per un attimo Ma sai Che ci ho Creduto in noi Ma io vivo Ne ricordo che Scomitando Si fa spazio In me Di un amore Che purtroppo Non sei te Dolce stella Non tremare Ci ho provato E riprovato Ma non posso più Farti male Formi male Tutto questo Dimmi che senso ha Spacchiamo il mondo Io e te Ho il cuore pieno di no Ma perché Non riesco a rinnamorarti Di te E te Mi sono in noda in gola Il tuo cosmo Ma la respira Mentre me Dipendo Sento che vorrei Proteggerti Da me Ti ho lasciato Ti ho ripreso Grazie a tutti. E quindi vediamo ora chi c'è che si esibisce come secondo concorrente, giuria attenzione, regia mi segua, pubblico sia caldo, applaudiamo, applaudiamo, Carmelo Marcherone, Carmelo Marcherone, vieni Carmelo, Carmelo Marcherone, vieni qua, vieni qua, vieni qua, voi quando io vi chiamo dovete venire, non vi dovete inibire, ma venire subito, Carmelo Marcherone che ci canta, tu sei di Radusa, Radusa che provincia di? Provincia di Catania, allora sei un mio compaesano tu, bene allora Carmelo Marcherone che ci canta Piccola Stella, Carmelo Marcherone in Piccola Stella, Carmelo Marcherone. Cosa ci fai? Ti staccherai Perché ti tiene su soltanto un filo Tieniti su Tieniti su E ora abbiamo un terzo concorrente che si chiama, io spero che sia pronto, sono convinto di sì, che si chiama Mirko Falciglia Mirko Falciglia Buonasera Mirko Falciglia, ciao Mirko Buonasera Tu sei di Enna Sì Quindi tu giochi in casa Sì Giochi in casa, non fare però come abbiamo, come facciamo noi, no voglio dire la scorsa volta il Catania, io sono catanese, è andata a Roma fuori casa e ha perso 7 a 0 Una vergogna, tu invece giochi in casa, quindi devi necessariamente vincere, devi essere bravo, poi ci avrai i tuoi amici qui che sono di zona, quindi che ti applaudiranno, un applauso glielo facciamo, dico ragione, sì Grazie Glielo facciamo Mirko, bene Mirko tu ci canti, ci canti Scis Scis Allora io direi sentiamo Mirko Falciglia con Scis Grazie She, she was with us So I cried for me And she's cried for me Till my sunrise came First time you come with him I look into your eyes to see What you were gonna say to me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti